Critici anche i 5 Stelle che parlano di decisione scandalosa ed escludono la ripresa della trattativa. Con i franchi tiratori del Partito Democratico nel voto segreto mi pare una barzelletta. Io penso che sia giusto tornare al modello del legale come applicato anche al Senato che come diciamo dal 4 dicembre è l'unica legge che questo Parlamento di nominati può approvare.